Abbiamo fatto il primo pranzo da grandi, pranzo proprio insomma, ho dato una puntina dello starter della Royal che hanno apprezzato tantissimo. Adesso la mamma perché non si fida giustamente delle mie dote culinarie va a controllare, va a vedere secondo me. Questa già non sa cucinare per umani, figurati quando fa le pappe per i piccoli, è brava soltanto con le crocchette. Comunque loro, come potete notare, la pappa della Royal, forse l'ho data poca però per l'inizio, proprio per non creare, guardate come camminano ormai bene, proprio per non creare problemi di pancia, di stomaco, si fa un passaggio molto molto graduale. Oggi proprio una puntina per assaggiare quello che deve essere, poi ne ridaremo un'altra all'ora di pranzo, come mi ha detto la mia veterinaria Fabiana, e poi ne daremo un'altra stasera. Poi pian piano si aumentano le dosi, si aumenta anche il tempo, qualcosa. In Dulcinea ci è rimasta molto molto male, guarda c'è chi non riesce a trovare posto, non riesco a trovare una tetta, datemi una tetta e vi solleverò il mondo. L'ha trovata? No, non l'ha ancora trovata. Allora, adesso vi lascio che l'aiuto a trovare la tetta. Arrivederci a tutti. Ha trovato da sola, mi sa, eh? No, non ancora. Se, se ha trovato, ha trovato. No, vado a trovargli la tetta. Arrivederci a dopo.